Pronti alla partenza? Partiti! Il passaggio al primo in intermedio, alla Sector 1, con l'altra Silvia Piazza. Michael Giacomotti, seguito da Fabio Pizzi. Poi da Nicolo Grieco, da Lorenzo Mugnolla, passa Michael Giacomotti. Il passaggio al primo in intermedio, è arrivato qua sulla linea del traguardo e ferma per il percorso. Il passaggio al primo in intermedio è arrivato qua sulla linea del traguardo. Il passaggio al primo in intermedio è arrivato qua sulla linea del traguardo. Grazie a tutti. 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 a tutti. e a tutti. 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 a tutti.